la nostra regina la regina del pub oggettivamente e la regina del pub nerd ovvero sarà ciao curo ciao ciao dario come stai aspetta sposto ma hai fatto qualcosa di diverso forse hai fatto la barba più corta non so no no che proprio non ho più la barba non lo so vedevo qualcosa di diverso ma non capivo cosa avevo caldo mi e poi a napoli ho scoperto che la mia barba iniziava a trattenere tutto il pomodoro tutti i sughi tutto il sudore napoletano quindi ho detto vai sai bene ti toglie qualche anno sì però non vedo l'ora che ricresca che già mi sento un po nudo va bene comunque ragazzi qua con noi un altro grande protagonista del pub che vedo mutato quindi occhio ecco per essere già smutato è perfezionista come al solito il re dei perfezionisti forse ciao michele ciao buonasera buonasera ciao ciao papà esatto daddy 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 come stai ho la scrivania motorizzata ma che serve a parte ecco fa questo una volta e poi mai farlo mai più serve un sacco poi ragazzi non abbiamo solo un ospite ne abbiamo due ma che dico non abbiamo due ospiti abbiamo uno studio intero di ospiti ovvero round two che per la prima volta guarda guarda sta a vedere perfetto siamo benvenuti ciao marco ciao francesco ciao grandi ciao ragazzi e poi l'onnipresente il nostro il nostro la nostra ancora di salvezza quando c'è lui ragazzi siamo tutti un po più tranquilli victor ciao vic ciao ragazzi con l'altro la svette dietro sta montando la sta montando la il castellino del gatto che è arrivato prima quindi come domani partiamo c'è anche un chirio ma al buio come come al solito è un po è messo male vabbè ciao ci proviamo ci proviamo ciao a tutti ciao a tutti allora ragazzi innanzitutto vi voglio chiedere so che per rompere un po' il ghiaccio so che è una domanda un po difficoltosa per molti di voi visto il vostro stacanovismo ma avete fatto un po di ferie vi siete rilassati domani 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 parto e farò dieci giorni di tipo semi tranquillità tra l'altro c'è questa cosa che quando io parto escono sempre trailer della madonna quest'anno mi sentivo in salvo ieri mi hanno dato che dopo che settimana prossima che io sono in ferie e scelteria di avatar ok va bene dovresti anche rispondere sti cazzi di aveva no e no il film cameron che torna a girare scusa grande vento invece di sara cosa devi coprire un nuovo mmorpg che durerà tre giorni poi morirà come tutti i dati touché touché ok ma no allora in realtà martedì mercoledì anzi esce la nuova espansione di genshin e martedì parto per la gamescom quindi mi faccio la settimana la e alla fine ho saltato le ferie perché mi stressava di più il fatto di andare in ferie e poi ripartire due giorni dopo per la germania che farle quindi le faccio più avanti ma scusa cosa aggiungono in questa nuova espansione di genshin ancora no esce no esce praticamente tutta la parte desertica le foreste personaggi ispirati all'egitto fichissimo no è bello e poi aumentano le tette no in realtà no perché fan polemica se no diminuiscono le tette diminuiscono le tette l'hanno diminuite sì le nerfano sempre purtroppo ma scusa michele ho visto il tuo non rage quit il tuo quit basta di genshin impact ma è capitato nel feed a caso io sapevo che ti eri spaventato un po mi spieghi cos'è che ti ha spaventato di genshin impact mi interessa parecchio no allora o ecco quello a onore dei fatti e della verità è stato 60 per cent gag però tendenzialmente quello che mi spaventa non è di genshin impact quello che mi spaventa è di sentire la mancanza dell'adolescenza cioè essendo io un video giocatore sì essendo così eterogeneo come video giocatore se mi metto a prendere un titolo must multiplayer online è finito è finito e invece dato che è arrivato kirio c'è comparso kirio ho notato un'altra cosa al tuo profilo instagram cioè che hai iniziato hunter hunter o hunter x hunter giusto sì ok no voglio sapere un po sconcertato perché sei sei voglio sapere qual è la tua insomma voglio sapere la tua opinione come lo stai prendendo questo non mi fa rinnovosire eh perché non ti vedo convinto ma innanzitutto perché iniziare un manga interrotto oggi nel 2022 che però sta no vabbè perché c'è l'hype del ritorno lo riprendono ha già smesso è infatti è che hunter x hunter versus hunter for hunter cross hunter anche cross hunter quello che è vabbè x ci va bene la cosa è praticamente parte di un trittico che include undertale outer wilds e lui c'è nulla mi è stato consigliato così tanto in vita mia nulla ah però ci fosse un collegamento no no il collegamento è il pubblico il collegamento è il pubblico grazie alex grazie grazie cimè ho ceduto nel senso ho detto ok va bene facciamolo quando mangio a pranzo mi guardo un episodio tra tre mesi e mezzo ho finito hai già fatto la tabella di marcia questa è una domanda che con un pubblico appassionato mi preoccupa mi fa balbettare io sono arrivato all'episodio 7 quindi sono molto early all'episodio 7 dell'anime del 2011 meh quando dovresti leggere il manga più che quando l'anime c'era una formicola ma scusa perché michele ok allora all'episodio 7 per quanto sia una storia che ha gli anni che ha per ora la cosa che più mi incuriosiva e che ho fiducia arriverà sarà una certa profondità e una struttura magica di power leveling e sistema di combattimento che possa darmi una certa solidità interesse per ora abbiamo un sacco di personaggi per ora veramente con un potenziale sì ma sviluppati zero è ovvio sono sette episodi è un'ora di anime è nulla in una sequenza di eventi buffi classiche shonen già visti cento volte con interazioni che sono già state cliché quello è allora michele posso dirti con tranquillità quello che sto per affermarti che svilupperà no 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 non questo hunter x hunter hunter cross hunter chiamalo come ti pare hunter hunter ha il sistema di diciamo ha il power leveling o comunque le tecniche il senso di progressione il senso di progressione più solido che sia mai stato creato quindi non ok it's my cup of tea lo voglio lo aspetto sono contentissimo ma se posso se posso è bello secondo me non è così brutto come dice la gente in chat l'anime del 2011 però dato che ormai ci sei dentro sì lo so che fa comodo mentre mangi che è l'unico momento in cui ti puoi rilassare eh certo te devi fare due cose per forza a meno che non si ritorni al vecchio tubo già citato cioè dovrai mangiare e cacare quindi quando vai a cacare me lo leggo leggilo è meglio lo associo le due funzioni cioè quando mangia guarda l'anime e quando caga legge il manga Fulondo dice in chat belli scarabocchi del dio Togashi Fulondo quando con quelli scarabocchi riuscirai a fare uno dei migliori manga mai creati ti stringerò la mano sì ma poi capiamo che Togashi Togashi disegna male quando vuole disegnare male esatto disegna bene quando vuole disegnare bene perché leggete livelli di Togashi per vedere un manga fatto veramente ma anche nella perfect di Yu Yu ha disegnato un botto di robe è bello sì perché sul rivista ci lascia gli storyboard per forza sono disegnati male ma poi scusate mi sembra che tipo anche Atta con Titan soprattutto agli inizi non è che brillasse per disegno non è che dopo brilli ragazzi però funziona funziona la cosa utile è che ha creato uno stile di sicuro ha fatto qualcosa di nuovo cioè secondo me Isayama nel manga mainstream è riuscito a far capire a un pubblico giovane che la politica che la società che l'uomo si poteva descrivere in maniera molto matura e molto adulta nel manga mainstream l'hanno fatto anche altri in passato però nel manga per ragazzi in mainstream passando dal fantasy dal fantapolitico dal fantascientifico fare una cosa del genere non è da tutti ecco quindi sono rimasto piacevolmente colpito da quella lettura ma non è che se me lo guardo è così tanto mainstream cioè lui ha fatto una super conosciuta che lo conoscono i peggiori normi tra virgolette no no lo conoscono tutti è vero quello che diceva Mike me l'ha consigliato il mondo eppure è un capolavoro c'è l'orità è un capolavoro assoluto neanche un film proprio con disprezzo ma non è che fa l'effetto berserk poi io ho paura di quello in che senso che poi mi lascia no che mi lascia lì sul più bello e io sto male cioè non fate parlare fossa di berserk per favore vietategli di parlare di berserk no era solo perché me l'avevate consigliato un botto io me lo sono mangiato praticamente in un mese e mezzo e poi sono rimasta così capito ma tanto lo finiscono Sara lo finiscono quindi non eh vabbè non lo finiranno altre persone però lo finiscono boh io ancora non sono andata avanti onestamente aspetto un po' le recensioni si dici ma si io sono ancora ferma al numero originale all'ultimo numero anch'io non sono d'accordo con fossa cioè dopo l'eclissi ci sono tante cose bellissime quindi non ma dopo l'eclissi c'è la cioè raga sparnese grazie si va bene ho capito ma mai se fosse brutto mai dello stesso livello ok però l'eclissi è un'acce ci sta però non è che quello che dopo certo infatti secondo me a parte l'attacco dei giganti ultimamente proprio della new gen della current gen diciamo di manga non riesco a trovare un qualcosa di così rivoluzionario c'è roba molto interessante per esempio mi ha fatto molto sorridere Shainsaw Man mi sta divertendo parecchio però non lo trovo così rivoluzionario è strambo più che rivoluzionario cioè il suo stile quello di Fujimoto anche Fire Punch era così mi sta piacendo Made in Abbey è figo però secondo me ci vorrà un po' di tempo prima di valutare l'attacco dei giganti si sentiva forse fin dall'inizio o comunque però quest'idea adesso bisogna aspettare secondo me prima di dargli si sentiva fin dall'inizio ma non si sentiva così cioè quello è proprio il pur esempio di una roba che ti cambia completamente e a vari apici secondo me lì è una cosa proprio differente cioè in ogni stagione come posso dire stagione narrativa ma comunque va bene lo stesso è bello lo stesso c'ha le sue c'ha delle robe veramente incredibili e ogni volta sono incredibili perché sono diverse nella natura e nell'approccio e secondo me è bello anche quello perché sono diverse ma poi tutto resta alla fine con una coerenza molto forte ma ti compisce per robe diverse secondo me per l'attacco dei giganti cioè all'inizio anche solo la caratterizzazione dei giganti questa cosa ti prende da subito anche l'horror anche quell'horror lì sì sì l'horror anche poi ha una costruzione narrativa secondo me che è fatta veramente bene anche perché a un certo punto l'horror lo dismette alla fine cioè si trasforma diventa quanti filosofi diventa fantapolitico a un certo punto ma qualcuno chiedeva in chat One Piece One Piece ragazzi ormai io lo paragono a uno zio a Natale nel senso che è quello zio che ti ha insegnato tutto quando eri ragazzino che ti ha dato veramente tante lezioni e ti ha fatto crescere adesso Natale invece è vecchio e ha voglia solo di ubriacarsi e ogni tanto caga sul tavolo per rovinare la scena di Natale ma tra un punto che l'altro ogni tanto ma anche dei difetti ma anche dei difetti aspetta aspetta ogni tanto ha quel guizzo l'attimo di lucidità dove torna a darti quelle grandi emozioni di un tempo tra una cagata sul tavolo e l'altra e poi non puoi non volergli bene perché tuo zio è tuo parente gli vuoi bene vabbè anche la cagata sul tavolo magari è un'emozione io comunque ti posso dire che l'ho iniziato qualche mese fa non l'avevo mai letto cioè a parte all'inizio appena finisce lo leggo sì poi aspetta e spera però non è che mi stia prendendo così tanto forse perché l'ho letto tutto di botto forse perché l'ho letto da adulto anche non lo so non credo sia una grandissima opera bello ci mancherebbe lo so che ora mi ucciderà no vabbè ci sta ognuno sa i pareri ho dei grossi problemi con i manga così lunghi purtroppo non riesco cioè l'inizio ma una certa li abbandono come ho fatto anche con Naruto perché sono troppo lunghi e io purtroppo ho grossi problemi di memoria quindi poi mi dimentico Naruto finisce al volume 28 eh io mi dimentico poi dovrei in confronto a One Piece è un one shot praticamente dovrei rileggermi tutto da capo e quindi a una certa smetto perché sono troppo lunghi non ci sto dietro io One Piece ormai per me è impossibile abbandonarlo anche se c'è stata una pausa lunga recente perché io lo leggo dal giorno 1 e quindi avendolo letto quando avevo 11 anni cioè veramente mi ha accompagnato per tutte le fasi più importanti della mia vita e ancora continuo ad accompagnarmi mi accompagnerà fino a probabilmente ai 35-36 anni quindi come cazzo faccio cioè è impossibile scrollarmi di dosso una roba del genere tutte le emozioni per me certo tra l'altro è la moglie di Togashi eh vedi cioè quindi sono tutti e due che non hanno tanta qualità se ci pensi questo ha fatto un anime famoso nella sua vita può lavorare per sempre perché è chiaro come Toriyama cioè non è che ha bisogno di fare un altro ma Toriyama deve fermarsi fermatelo ma l'ha fatto anche Dottor Slamperale comunque c'è un'altra opera all'attivo levategli le penne a casa Toriyama si smette a proposito di Toriyama fermatelo ma te lo vorresti un Dragon Quest senza quello stile lì? preferirei la morte allora non si può fermare perché dici non fermatelo scusa fermate no con Dragon Ball con Dragon Ball con Dragon Ball vabbè ma l'unica cosa è poi firmare il contratto poi non è che scrive altro no deve smettere di firmare i contratti legati a Dragon Ball Super basta hai rotto il cazzo ma tra l'altro Rob mi ha raccontato che il nuovo film si chiama Dragon Ball Super Super Heroes ma perché lui si era dimenticato che questa serie si chiama Super è per quello che c'è mi ha detto Rob che ha detto che in un'intervista ha dichiarato che sì lo si chiama così perché l'ho dimenticato le interviste di Toriyama sono un capolavoro della smemoratezza e del ah giusto Dragon Ball lui si era dimenticato alla coda come si era dimenticato che l'ultimo Super Saiyan 2 il Super Saiyan 2 si era dimenticato ma anche i capelli biondi sono venuti a caso non è che li ha è vero che poi è giusto non voleva colorare non voleva colorare sì esatto è mio padre totale però ragazzi ha inventato tutto bisogna stare solo sì ma infatti no no sì ma moving in giro sto prendendo adesso quella versione no tu mi avevi consigliato la color io invece sto prendendo dato che il manga non l'avevo mai letto la ultimate della cazzo in culo sì quella quei volumi rossi bellissima super ultimate deluxe cioè no l'ho comprata 100.000 anni fa no è nuova è appena uscita grazie 100 lì no è un super testo quella la perfect adesso l'hanno fatta come la perfect però carbonata io questa sto facendo ah ok quella tua è bruciata però è bellissima perché ha le tavole ha le tavole dentro cioè è super bella ragazzi ora voi che dite eh ma io ho seguito l'anime è uguale no è uguale è uguale no guarda da super fan dell'anime che non aveva mai letto il manga sto trovando un sacco di differenze no quando io sì quando io ho letto il manga di dragon ball dopo aver rivisto l'anime una cioè persino i famosi powerlabs funzionano nel manga nell'anime no ma è vero ma il manga secondo me è un altro livello l'anime ci si è cresciuti quindi rimane nel quarto esatto l'anime faceva un cagare a tratti ma poi combattimenti l'anime è sottovalutatissimo come disegnatore secondo me ma è bravo poi combattimenti dura ma è bravo è un ammostro mi ha colpito positivamente che è uscito adesso che io ho visto l'anime ragazzino e sinceramente dopo un po' mi aveva rotto coglioni invece il manga è una bomba secondo me mi ha colpito Sanpei è veramente ganso ma poi ha disegnato bene cazzo non credevo e invece giochini del cazzo cosa state giocando adesso so che Kiri ora vi si incazzerà però bisogna parlare un po' no 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 ma sto giocando anche io no no avevo detto non veniva se era solo videogiochi no no abbiamo parlato no no ma ce ne mancherebbe cosa state giocando in questo momento sto rigiocando The Last of Us ok ok perché mi è arrivato il remake esatto e ho detto sai che cosa me lo rifaccio tutto è il momento di provare esatto ma serve allora ne vale la pena non si può dire ancora io l'ho adorato The Last of Us non si può dire vabbè in amicizia in amicizia in live da remoccia certo meglio di no meglio di no nel senso non è una recensione il gioco si conosce cioè la storia si conosce e cioè mi sento di dire che giocandolo dopo nove anni perché poi no otto anni perché avevo fatto anche il remastered del 2014 ancora oggi quel racconto lì tiene botta assolutamente e quell'approccio lì cioè proprio sfidante bello piacevole è quell'inizio lì è quell'inizio lì micchia eh sì poi sulla tecnica sul remake non posso dire nulla però insomma la storia credo che sia patrimonio comune no no beh io ho rigiocato The Last of Us remastered per poi giocarmi il 2 che non avevo mai giocato fino a qualche mese fa e sì confermo sono spettacolare e il 2 mi è piaciuto un sacco e chi l'ha criticato secondo me non capisce una sega per me il 2 è più bello tanti l'hanno criticato ma il 2 ragazzi è stato criticato più per le scelte dei personaggi per per la protagonista per Abby in realtà che per tante altre cose ci sono video recensioni il sistema il sistema di opinionismo di internet ha creato questa cosa in cui c'erano video recensioni incredibilmente approfondite che parlavano di questa valanga di merda offensiva per la cultura dell'essere umano e del videogiocatore ed erano soltanto video sulla trama come se il videogioco non esistesse e veniva definito ah sì è lo stesso un grafica migliore e lì capisci che il diritto di aspetta no con parole non bannabili ho capito ho capito dove volevi arrivare vai e io bevo il no 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 vabbè però ho capito cioè il diritto vabbè non si può dire effettivamente come la dici la dici la dici sbagliare un saluto agli amici della pagina facebook abolizione è come se dicessi che una cosa che finisce in azzia è un po' sopravvalutata no era un po' grazie a Cremonese a copo l'abbonamento vabbè ma tanto ragazzi fra un paio di mesi si potrà dire tranquillamente quindi tutto quello che volete quindi non anzi ti vengono a prendere ti vengono a bastare con un manganello se non lo dici ma secondo me grossa parte del problema del 2 è stato l'eroe che diventa anti-eroe e viceversa molte persone non l'hanno presa bene quella cosa è un po' troppo Sara dai il punto è che le persone volevano una storia di stampo differente classico non problematico le persone volevano che si rimanesse nella sfera del nella comfort zone nella comfort zone le persone che erano creati una comfort zone fasulla fasulla completamente fasulla io sono d'accordissimo con te era una vacanza di informazioni so che lo sei il fatto è che le persone erano convinte nella loro incapacità d'analisi di comprensione di una storia perché a livello cazzatissima le persone erano convinte che Joy fosse l'eroe della storia buono buono si sono degli imbecilli cioè non hanno completamente compreso allora aspetta Mike anche io devo dire scusami vai vai no no vai 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 no io volevo dire che io sono rimasta scioccata all'inizio in quella scena cioè io pianto tantissimo e per lì ho odiato cioè ho odiato tutti e ho augurato il peggio della morte a Eve poi quando ti vengono date tutte le altre informazioni allora lì hai l'epifania e dici oh mio dio porca Eva e per me sono giumani realistici più che altro ti fanno capire che siamo in un periodo dove tutti possono essere degli stronzi o dei buoni o delle persone a metà è bellissimo secondo me ma anche il fatto di darti il controllo di un personaggio che tu non vuoi usare perché non ti piace e perché in quel momento ti interessa più l'arco narrativo dell'altra parte dici ma levamela dai coglioni e mentre succede all'inizio hai questa sensazione veramente di fastidio di repressione come è bella questa cosa come però ti obbligano ad essere interattivo con lei che questa roba è potentissima perché non è che stai leggendo stai giocando e invece poi si ribalta e succede x ore dopo senza spoiler ma che quando passi dall'altra parte dici no aspetta ma io volevo tornare a giocare la parte di lei che adesso era diventata più interessante le vuoi bene questa cosa è potentissima a prescindere dal fatto che uno poi possa non piacere o meno l'evoluzione della trama secondo me qualcuno non sono tutti così deficienti che dicono ah per un ragionamento politico eccetera quelli veramente per me sono dei coglioni e basta ok però il punto è che secondo me c'è anche gente cui magari genuinamente non per quelle ragioni lì non è piaciuto ok e ci può stare non sono per niente d'accordo però al di là del fatto che ti sia piaciuto o non ti sia piaciuto la trama secondo me è riconoscere che ha dietro un tipo di studio di quel genere lì un tipo di sceneggiatura tra l'altro così coerente con l'originale che lo fa veramente sembrare una cosa che ah ma cazzo se li erano inventati così dall'inizio perché infatti anche il suffisso che hanno aggiunto adesso a loro parte 1 ti fa capire che veramente cioè non sto secondo te il marco era stato davvero concepito con la storia unica assolutamente no ma l'hanno anche dichiarato però il punto è che l'hanno talmente scritto bene che sembra che sia coerentissimo ma è un po' è un po' come Better Call Saul come flashback come flashback bravissimo Dario call to action potete ancora però sì anche flashback sono riuscito a fare una cosa di leggere certo non è che Davido che è una cazzatina però insomma è vero è carino è carino e un'altra roba è che comunque sia rigiocando l'uno cioè ti accorgi che veramente quel mondo lì era già costruito per farti capire che la vita è una roba di predatori allora sì tutti sono cattivi intanto non esiste più l'etica che conosciamo noi sono opportunisti tutti vogliono sopravvivere più che altro sono opportunisti e poi la vita cioè basta veramente una disattenzione o la fortuna che finisce e la perdi e la perdi e tutti lo sanno e vivono sapendolo e tutti sono consapevoli di questa cosa qui quindi cioè secondo me gli elementi narrativi anche di cornice c'erano tutti già nell'uno e la gente forse erano passati insomma tanti anni non se lo ricordava ma adesso che magari giocherà grazie al remake rigiocherà il primo e lo vedrà retroattivamente che era già tutto lì era già tutto lì io invece dopo la chiacchierata con voi giocherò per la prima volta in vita mia ho visto mezzo trailer e poi ho tolto perché ho detto no è troppo bello non voglio spoilerarmi nulla Coromon oh bellissimo perché mi sembra veramente figo e sto provando quell'entusiasmo quella volontà che provai ai tempi cioè provai ai tempi è difficile sì eh è molto tosto è tostissimo ok però vorrei provare stanotte faccio mea colpa quello Sabaku prima diceva se io entro in un gioco con sfumature MMO per me è finito bene io ho ripreso Destiny 2 ah vabbè ma non è un MMO Destiny eh vabbè però dai è RPG cooperativo dai sì però la struttura è la struttura le iterazioni i ride le cose mi ci sono fiammato tutto oggi perché stamattina stavo male ho dormito mio collega qui ha portato avanti le dirette di round 2 lui nel frattempo giocava e io ho giocato tutto il gioco ma che ci avevi Fossa che è successo mi sono svegliato con un mal di testa allucinante e non ho capito se era emicrania digestiva perché non avevo digerito una sega o la cervicale non lo so una delle due magari entrambe le cose o forse un mix di entrambe le cose però l'importante è che Marco ha lavorato sta canovista guardalo oggi è anche un po' stanco Marco ci salva sempre il culo anche a me bravo Marco un applauso per Marco grazie a Stark trasversalmente lo salva anche a me grazie a Stark oh ciao Mase Mase grande Masellone tra l'altro avete visto ecco vedete perché i fan devono morire no aspetta chiarisci subito di che cosa stai parlando non puoi dire Guy perché i fan devono morire nel senso devono stare zitti non morire fisicamente ci mancherebbe è un'esagerazione un grotti nel senso che non dovete rompere i coglioni la grafica no si sono lamentati sullo stile ma che cazzo li sapete voi di stile basta un culo Ron Gilbert si è dovuto togliere dai social perché le persone lo accreditavano basta di cazzo non lo accreditavano quello è sbagliato però devo ammettere che anche vedendo lo stile dell'autore che poi ha fatto cioè sta lavorando a Return of the Monkey Island non è proprio il suo migliore Rex Crow sono d'accordo a me piace a me piace per me è particolare ragazzi ma è quello che ha fatto Teraway e Nights and Bikes che entrambi sono comunque molto molto più secondo me di persone l'anti abbiamo visto ancora poco secondo me per poter giudicare parecchi trailer si sono visti se andate su Twitter pubblicate una roba di continuo ne hanno pubblicato uno anche l'altro ieri mi sembra a me piace io voglio dire una roba però ragazzi secondo me non bisogna passare né da un eccesso né all'altro cioè è chiaro che le persone che vanno a cercarlo a insultarlo a rompergli i coglioni a minacciarlo eccetera si commentano da sole sono inqualificabili però secondo me non è nemmeno giusto passare poi all'opposto per cui se uno fa una cosa ed è uno famoso rinomato che torna sulle scene dopo un tot ah vabbè allora perfetto grande maestro se uno non piace ti faccio esempio a me non piace lo stile di questo nuovo Monkey Island si può dire se si fa con educazione si può dire no 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 si può fare però si stava parlando del fatto che sai cos'è il discorso il discorso è che siamo in un'epoca in cui tu puoi comunicare con i tuoi idoli cioè tu magari sei fan di Monkey Island da più di 25 anni hai la possibilità di stabilire un contatto con Roig Gilbert e scegli di stabilire un contatto in cui lo insulti cioè se proprio in quel caso sei un coglione però cioè la discriminante è quella ma infatti si parla dei coglioni puoi dire semplicemente proprio perché hai un rapporto diretto tu ce la puoi fare a dire a uno guarda lo aspettavo da un sacco e mi sarebbe piaciuto in un modo diverso ma sono i pochissimi che lo fanno così il 90% lo fanno in quell'altro modo della società però in realtà per come è oggi la possibilità di raggiungere persone che stanno dall'altra parte del mondo eccetera eccetera dovrebbe essere un vantaggio o un modo per instaurare un discorso anche super positivo cioè secondo me invece tanti pensano sono dall'altra parte del mondo non mi vedrà mai non mi conoscerà mai posso augurare la morte però è sbagliata l'impostazione il mezzo in realtà potrebbe anche creare una dinamica interessante e secondo me nel dissentire educatamente ci sta ma ci sta ma quello ci sta ma quello si però c'è la gente che viene a romper il cazzo e a spaccare cioè a spaccare i coglioni no vabbè allora la gente deve capire che non si può sostituire agli autori questo è e che nel farlo non deve essere aggressiva questo sono d'accordissimo concordo con te e soprattutto come diceva prima Dario il problema sono molti fan perché quelli che sono stati più accaniti e che hanno alla fine sprecato parole più dure verso Ron che si è trovato sommerso da mari di merda quelli che secondo me devono andare a fanculo infatti sono quelli che effettivamente erano i fan più accaniti che hanno detto no ma Monkey Island non era così io me lo ricordo diverso mi fa schifo non lo voglio così e boom sai Sara secondo me forse è vero ma c'è anche un altro problema è che tu non hai cioè dico tu chiunque Ron noi non abbiamo nessuno strumento per capire davvero chi c'è dietro un'offesa una parola un commento quindi possiamo postulare che siano i fan quelli più accaniti ma in realtà secondo me lì nel mezzo c'è anche gente che vuole solo fare casino che si unisce al chiasso alla shitstorm che gli piace vedere bruciare il mondo e che magari ti viene anche a dire eh no sai io l'ho giocato quando è uscito perché c'ero già da The One invece magari ha 12 anni sì però se capisci io posso capire i fan delusi la nostra possibilità di filtrare questa tipologia di commenti è zero zero nello stato dell'internet odierno perché non c'è infatti ci vorrebbe una bella identità digitale esatto bravo non c'è identità digitale non c'è riconoscimento dell'identità digitale non c'è responsabilità uno si può fare 40 account per rompere il cazzo quindi non lo però posso però posso solo ai fan on transit diciamo anche una roba che chi ha oltretutto le spalle larghe come lui che è uno che veramente è un'autorità ha una carriera che parla per lui sicuramente tantissima stima da parte di oltre che i fan non quelli che vogliono rompere il cazzo ma in generale anche di tutta l'industria per esempio capisco la gente che ripeto arriva agli eccessi però potresti anche viaggiare un po' più in alto rispondere non chiaramente manualmente a tutti però dire signori il gioco è mio faccio come cazzo mi pare volete rompere i coglioni non lo comprate e però gli rompono i coglioni peggio di prima così Marco il problema è un po' diverso cioè secondo me il succo della discussione sta in quello che scrivono perché se te scrivi un'offesa vabbè sei un coglione e questo l'abbiamo capito se te critichi qualcosa eccetera va bene però la maggior parte delle volte io leggo sempre lo stesso commento ovvero no non lo voglio così lo voglio cos'ha ma che cazzo il commento è cioè se ci sono degli artisti però Dario a questo commento può rispondere certo il punto è secondo me dovrebbe rispondere invece che fincerarsi dietro il silenzio ma avete rotto il cazzo ma lì è una ragione quello che è quello dipende dalla persona invece è giusto rispondere perché uno che magari è un bamboccio della minchia che lo esprime senza nemmeno pensare al fatto che ci si dietro una persona che quello stile sia ragionato eccetera eccetera se gli dai una risposta che è un minimo strutturata poi magari sei scemo non capisce no ma non si sta parlando di quello Marco cioè quello poi va anche un po' a appunto come diceva Sara carattere della persona sto dicendo che la gente ormai crede di saperne più dei creativi e invece di dire ok non mi piace non lo compro cerca di spostare il creativo verso il suo gusto in maniera molto egoista come Sonic no ok Sonic è stato rifatto bene ma è andata bene ma ha creato un precedente secondo me molto inquietante infatti siccome è stato sbagliato come l'espansione di Mass Effect 3 ah già non bisogna dargli la vinta poi la casa insomma la casa di produzione la casa editrice la casa di sviluppo deve bruciarsi deve sbatterci la testa perdere soldi e poi passare ad altro però il fan bisogna stare attenti ad accontentarlo perché il fan fa il fan fa il consumatore mentre il creativo fa il creativo poi ci sono brutti creativi buoni creativi quello nessuno mette in dubbio e poi ci sono buoni consumatori che magari hanno un buon gusto e hanno anche una mentalità diversa dal consumatore medio e poi ci sono i cattivi fan che invece la vogliono come dicono loro questa cosa qui è un po' inquietante tra l'altro Ginengipe che dice sono qui solo per Michele si è abbonato a 19 mesi coglione comunque è una piccola parentesi scusami Michele viene almeno da 19 mesi era per dire era per dire insomma comunque posso fare un esempio Final Fantasy la saga vai io da amante della saga dopo il 13 sono stata molto delusa in generale dei loro lavori però rimango comunque un'estimatrice della saga di Final Fantasy quindi rimango sempre speranzosa che il nuovo capitolo possa uscire migliore ho dato 60 euro a Square Enix e lo rifarei come diceva Marco capito però capisco anche il fan che dice porca Eva tu mi hai sempre prodotto comunque un gioco di un certo tipo adesso stai cambiando le carte in tavola ma ci sta perché a livello marketing devono attirare nuovi giocatori tra l'altro Sara ho letto proprio delle dichiarazioni ieri che dicevano che hanno già messo le mani avanti per quello che stai dicendo tu dicendo nel 16 il combat così action sappiamo già che non piacerà per niente a qualcuno però lo vogliamo fare così ma va bene infatti va bene è impossibile esatto e ti dico da fan della saga della vecchia parte di saga col combattimento a turni io capisco questa svolta dell'action e va bene dico ok mi sarebbe piaciuto di più diversamente ma lo accetto perché lo capisco cioè secondo me un vero fan magari di quella che è una saga riesce anche a capire il perché di determinate scelte commerciali e il perché di determinati cambi perché siete dei figli di puttana ma è così in tutte le cose come i gruppi musicali che cambiano genere a un certo punto perché c'è Final Fantasy ah fate cagare non siete più gli stessi no ma non è per quello c'è avete la Square Enix che fa c'è due brand ben divisi che vi vogliono far capire guardate qua c'è l'action c'è il movimento l'azione di la mia a breve l'idefault ma infatti che cosa dici Sara è la parte è il vecchio stile dei Final Fantasy che ritorna non sto parlando di breve l'idefault dall'altra parte c'è Dragon Quest la saga leggendaria ah scusa è vero anche Dragon Quest ma soprattutto Bravely Default ma anche I.M. Setsuna secondo me Dario è in Setsuna ma vai a fare il culo I.M. Setsuna Bravely Default scusa avete questo è se vuoi il tool ce l'hai c'è Dragon Quest Octopath Traveler Octopath Traveler quadrare in questa a questo punto scende anche i grandi incroci dei destini dei personaggi di Octopath Traveler ciao bello vai no guarda che quelle lì va live con gli incroci degli stili Octopath Traveler è molto coerente con tutti i diversi personaggi guarda vabbè grazie a Giulies troppa vai c'è coerenza ma cosa si salutano e partono insieme e poi dopo qualche cosa quello è l'incipiente di tutti i giochi di ruolo si incontrano in taverna e partono insieme beh oddio no dai non è vero ma non è vero parlavo di gioco di ruolo di ond tipo secondo me è anche tipo cheat di quel tipo lì vabbè quello dipenderà dal master è molto ruolistico abbi pazienza se c'hai Nicola De Gobis è diverso oddio ce l'ha fatta nonostante il nuovo orario si parlava di Dragon Quest Gianluca mi puoi mettere la mano così non è vero purtroppo quello è Dragon Quest quassù ci sta Project Triangle Strategy comunque mamma mia comunque no beh Final Fantasy mi piace parecchio come atmosfera cioè il nuovo sembra veramente figo sembra tornare veramente all'atmosfera medievale gotiche però io vi vi darei una banale che sia perla di saggezza anche per il futuro vai perché ti sta piacendo così tanto questo Final Fantasy per una cosa che vorrei tutti cominciassero a seguire sfrutto questo palco per sottolinearla state più attenti a chi giochi li fa piuttosto che al nome del brand ok ah beh certo quello deve essere la base ormai tra l'altro c'è dietro il team di Final Fantasy 14 che ha scritto una lord della madonna infatti se tu vai a guardarti tutti gli eoni le summon sono identiche a quelle del 14 infatti cioè sono bravissimi cioè il team del 14 è tanta roba ho aspettative per i 16 per questo concordo con te io combatto sempre il fan che si lega al brand come se fosse la sua identità piuttosto che dire aspetta vero altrimenti Metal Gear Survive ve la privido nel senso è importante sapere può essere noioso e lo si fa magari da grandi ma quando cominci a vedere il dietro le quinte nei crediti chi va dove a fare cosa scopri tipo Vince Gilligan ma che fa non guardare il nome guarda che fa Vince Gilligan poi vediamo come lo scrive è quello che si deve fare ma è lo stesso discorso è lo stesso discorso che non facevano per Kojima vabbè sì ma sì esatto però un po' Kojima questo personalismo l'ha introdotto nel mondo dei videogiochi sì 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 ha provato tantissimo negativa nei confronti di Kojima visto che tendono le persone a pensare che io sia non neutro ultimamente non riesco neanche a concepire il modo in cui potrei essere abbastanza descrittivo nella negatività di una sua scelta è stato una bestia cioè Kojima dice no il mio corpo è fatto dal 70% di cinema io ho introdotto il nome nei miei videogiochi perché mi piacevano i registi e ho voluto fare come loro poi è diventato un negomane però al di là di questo lui ha recentemente pubblicato dalla sua posizione con la sua storia e pedigree un tweet in cui ha detto sono appassionato di Breaking Bad mi sono visto la prima stagione di Better Call Saul poi ho smesso ho deciso di saltare tutto mi sto guardando la sesta che dite devo vedermi le altre? ma stai scherzando dai veramente l'ho letta anch'io questa cosa un po' è facile cioè questa cosa a livello di carriera di posizione professionale se vuoi fare la mia serie preferita è meravigliosa si ho capito ma se vuoi fare questa puttanata non dirlo a tutti però Michele non parla più che altro però Michele ricordati ma ricordati che Kojima è lo stesso che in pubblico anni fa prima che venisse pubblicato Metal Gear Solid 3 aveva detto anch'io sono confuso sulla storia di Metal Gear Solid sto capendo più un cazzo quindi è uno che semplicemente ha un po' di non lo so lo dice non ci pensa è un po' un problema magari stava mevando è un personaggio perché voleva vedere i cameo comunque io non sono d'accordo sul fatto che sia Kojima aver concretizzato il personalismo nel videogioco l'ha fatto forse per la nostra generazione o per una certa generazione ma prima c'era Miyamoto Yu Suzuki si però ma Itagaki quanto si è provato però non sono arrivati cioè ci sono sempre uguale identico a Kojima però aspetta Fossa è che sono arrivati prima chiaramente Miyamoto è arrivato prima però è diventato un personaggio da inseguire forse dopo o sbaglio non lo so si un po' si un po' si cioè Itagaki mi ricordo che c'era un Itagaki che faceva divo del come se fosse un divo del cinema di quelli proprio intrattabili addirittura quando poi Kamiya di Platinum Games con cui aveva collaborato prima perché Itagaki è quello di Ninja Gaiden e Dead or Alive esatto lui faceva faceva più la rock star lui si sentiva molto sempre quegli occhiali capelli lunghi e quando Kamiya di Platinum Games aveva proposto il primo Bayonetta Itagaki l'ha giocato e ha detto io una merda del genere non l'avrei mai fatta poi ha fatto Devil's Third il fatto è che Kojima è un personaggio positivo che piace a tutti anche a quelli a cui non piace comunque chiunque ti direbbe vabbè è un bravo uomo quindi si è diffusa l'immagine di Kojima come autore che se la sente grossa un metro però in un certo qual senso è simpatico invece Itagaki o come lui anche per esempio Miyamoto citato da Fossetti Miyamoto è che lui stesso si sentiva un po' irraggiungibile quindi per la serie vabbè ma io non do troppa confidenza Kojima è uno del popolo ma allo stesso tempo è uno che si sente un po' sto cazzo ma lo fa sempre con quell'aura di simpatia neanche rispondendo a differenza di Ron Gilbert che per esempio recentemente si è offeso per le offese esatto e quindi piace e quindi si è sviluppata questa cosa di Hideo Kojima quello che mette il nome suo in tutte le parti del gioco è così però in realtà questo personaggismo c'era già da prima in realtà più che piace si è costruito una vera e propria setta cioè secondo me il fatto di Kojima è che è veramente rispetto anche ad altri cioè creato Edola Trato cioè lui posta una foto di un rotolo di cartigenica c'è la gente chi sa che cosa fa qual è il nuovo progetto di Kojima e secondo me lui su sta roba ma oggi c'è un casino con un sacco di questo è giusto ma lo fa adesso ma sono tanti capito sono veramente tanti quelli che fanno così e questo è il discorso cioè non sono però se uscisse il nuovo film di Tarantino tutti di Tarantino di un regista eccezionale di un Lars von Trier quello che volete voi saremmo tutti attenti a capire cosa ha fatto sì però aspetta questo è quando esce un nuovo progetto e quando esce un nuovo progetto di Kojima anche per diciamo continuità uno ovviamente lo può guardare con interesse anche a priori qui il punto è che Tarantino non è così presente diciamo nella comunicazione extra lavorativa come è Kojima cioè Kojima ogni due per tre fa il post quell'altra roba e la gente ci sbava dietro Tarantino secondo me magari lo fa quando deve comunicare un prodotto ma ripeto ragazzi è la presenza sua sui social essere diversa ma io parlavo del merito di essere così seguito e di essere così atteso cioè il fatto che sia atteso è perché ha dei precedenti straordinari e dei giochi che per loro stessa fisionomia hanno creato un culto Metal Gear Solid su tutti ma io invece voglio sapere la vostra cioè voi come la vivete questa roba perché io in questo periodo sto cercando di andare per sottrazione cioè io voglio vedere sempre meno perché ormai mi rovino mi rovino i film mi rovino i videogiochi ormai ti spammano in faccia tutto pochissimi tengono centellinano le informazioni capito lo faccio pezzino io con i miei progetti io se vedo un trailer di tre minuti e vedo che mi interessano i primi venti secondi lo tolgo cioè tanto guarderò il film quindi è inutile mi guardo tre minuti magari uguale però nel videogio è un po' diverso nel videogio è un po' diverso perché cioè di solito si concentrano magari su aspetti legati più al gameplay è molto difficile che runne Kojima ma in realtà Kojima fa un'altra roba cioè ti mette il trailer di Death Stranding è praticamente una parte del finale più una parte di quasi il finale se volete giocare Death Stranding non guardatevi il trailer no Gianluca non è vero perché se tu guardi un trailer di un film ti raccontano la storia è un film comico ci mettono anche le gag esatto Kojima il punto è che magari ci mette un pezzo che viene estratto dalla sequenza finale però tu non lo sai non lo capisci ma scusate ma PT cioè a me è rimasto lì eh beh beh sì è per me di Elmo del Toro che ha tweetato di nuovo facconame sì vabbè perché c'è stato cos'è stato venerdì scorso c'era l'ottavo l'ottavo anniversario infatti Kojima aveva messo le foto e anche io ho detto perché poi mi hanno detto no guarda che l'ottavo anniversario è da fanculo però io posso posso dire una cosa forse un po' forte forse meno male nel senso che Silent Hills non era PT ragazzi PT era un playable teaser sì è vero naturalmente e tematicamente e anche a livello di meccaniche di gioco di inquadratura Silent Hills sarebbe stata una roba differente vero è come dire non puoi flopare se non ci provi neanche cioè a quel punto viviamocela poi magari sarebbe stato diverso rispetto all'esperienza breve ma intensa che abbiamo avuto con PT e sicuramente non l'avrebbe replicata per molti fattori vuoi anche per la durata per la brevità di PT stesso che comunque è diventato un fenomeno di culto perché tutti se lo sono giocato era una demo gratuita presentata in quel modo quindi straordinario però chi lo sa così rimaniamo col dubbio in quel modo avremmo provato quello che voglio dire è che per me è bello storicamente che si possa anche rimanere col dubbio cioè ti capisco io lo volevo però ragazzi stiamo sottovalutando un annuncio secondo me che non è da sottovalutare così tanto cioè il remake del primo All in the Dark perché secondo me ha dato vabbè scusa Marco ma perché scusa perché l'hai visto sì e lo so che cazzo me ne frega ma almeno lo posso rigiocare ed è meglio dei poligoni io non l'ho mai giocato quindi ce ne sta è bellissimo è un giocone il valore storico che ha che magari è un po' difficile da comprendere col seno di poi oggi perché era di fatto Resident Evil prima di Resident Evil riproposto con quella veste lì che si è in pista non è che gli renda proprio tanto giustizia è un doppia A andava giocato al tempo quello lì mi sa come meccaniche proprio sai sono quei recuperi che sembra più fatto per il prestigio del brand perché hai un'idea che possa tirare commercialmente senza avere dietro i soldi perché poi tutto il punto di Embracer in generale e poi di THQ Nordic è che non sembrano avere chissà quale visione quale direzione ok i soldi per comprare tutti ma una idea buona bella finita e rifinita come si deve non c'è stata no a parte lo indie dark però io avevo fatto una domanda all'inizio cosa stavate giocando ha risposto una persona e il discorso è stato completamente a puttane scusatemi colpa mia io sto rigiocando Fallout Fallout 4 per l'ennesima volta top pregio io non ho mai non ho ancora lo sai non ho mai toccato la saga io ah beh tocca che è meraviglioso mia grande lacuna io non sono mai riuscito ad apprezzarla mi vergogno tantissimo di questa cosa ma non ti piace neanche Skyrim? no Skyrim si non ho mai giocato Skyrim anche quello mi manca no dai raga no a me è venuta a me di Fallout ti piace l'ambientazione forse l'ambientazione assolutamente si però il gioco non è brutto assolutamente però non mi ha mai preso cioè non sono mai riuscito a dire wow che bello il nuovo Fallout non vedo l'ora di giocare aspetto che è l'ottavo remake di Skyrim e poi lo gioco ma mettiti le mod è bellissimo con tutte le mod ma quando esce quando esce lo Skyrim quando esce lo Skyrim il remake definitivo ma che remake definitivo? è un totale tombale 14 edizioni 14 edizioni ma prenditi l'ultima giocati quella moddala è buona ma qual è l'ultima? Skyrim? eh non mi ricordo Ultimate Edition Extra Special Alpha Plus Deluxe Sigma Male Edition io ho visto solo il meme dell'inizio basta poi non ho mai visto niente non c'entrava niente stavolta Sara questa cosa grazie a Smatico benvenuto grazie a Smatico benvenuto comunque cosa stai giocando Michele? dai un attino per sapere beh allora il mio video giocare è in live ormai quindi diciamo che di recente Call of the Lamb sto giocando e basta ti sta piacendo il crendi oppure ti sta piacendo no perché ho sentito pareri contrastanti allora ovviamente c'è l'entusiasmo della novità che fa impazzire e ha un sacco di problemi e limitazioni però è delizioso è un videogioco un sacco divertente e un sacco di personalità ma comunque non supera Isaac no no non c'entra niente non c'entra nulla non c'entra nulla lo spavento nel dirlo no 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 perché anche su questo non mi sono informato di niente perché voglio il sense of wonder cioè me lo voglio godere appieno ce l'avrai lo avrai Dario perché soprattutto all'inizio è unico al contrario non imita altre cose se non in certe sfumature però già poi dimenticavo che è il gioco perfetto per te perché si parla di pentacoli evocazioni satana demoni sentavo gli agnelli secondo me resta un gioco veramente imperdibile in questa estate però è giusto che duri quel che dura che è una quindicina di ore perché soprattutto la parte gestionale che in realtà è il vero cuore del gioco perché tu stai a gestirti il culto del villaggio per 20 minuti e poi fai 10 di dungeon ma l'equilibrio è questo e i dungeon sono anche molto semplici eccetera però regge tiene botta tantissimo all'inizio e anche nel corso del gioco con un sacco di novità questo senso di progressione che è molto appagante e ti incolla allo schermo per ore bellissimo ma verso la fine tende un po' a stagnare diciamo e tutta la parte del villaggio va avanti da sola si perde proprio un po' la sfida per me è meglio perché il gestionale mi sta veramente sul cazzo non ce la posso però questo è un gestionale carino ti piace è soft è molto super soft no ma poi è molto carino cioè è molto divertente è molto ironico neanche tropico no tropico no l'unico gestionale l'ultimo gestionale che ho giocato e che ho apprezzato che è un gestionale un po' tutto sui generis perché era tipo uno stealth con dei personaggi che avevano delle caratteristiche diverse non dovevi muovere l'esercito ecco fare altro che si chiamava Desperados ah sì era un gioia ma quello è sì un gestionale ispirato a Sergio Leone nel West dove c'avevi tutti i personaggi c'era quello che era più veloce con la pistola il dottore insomma era una cosa molto interessante ti piacerebbe anche il vecchio Commandos eh Commander Commandos Commander ce l'aveva un mio amico si è Commander? me l'ha prestato e glielo doveva mandos Commandos Commandos è forse quello che ha canonizzato un po' quell'idea lì commando sai una squadra è una squadra di pochi pochi uomini ciascuno molto diverso dall'altro e devi gestirti un po' l'esplorazione in giro fare cose ma è comunque tattico ecco esatto è tattico infatti cioè io gestionale intendo appunto i tipo che ne so Jurassic Park Evolution no non ce la faccio tropico non ti piacciono? no non ce la faccio Sara io sono stupido cioè non sei stupido guarda io sono dopo tre secondi fallito il parco la città ma non è vero dai no non è vero ti assicuro sono totalmente negato ho giocato a sparo e mi è garbato fino a quando diventa spaziale o le guerre e tutto poi mi sono rotto io ne ho cestinato basta non c'ho più voglia era interessante la parte dell'alien dove vai a sbranare le altre creature ma poi mi sono rottoioni purtroppo non ce la faccio ma dopo un po' annoiano ci sta però in realtà Spore ha proprio questo limite qui cioè ci sta che tu sei arrivato alla parte spaziale quindi all'ultima fase sostanzialmente sì sono arrivato all'ultima fase e ho droppato e dopodiché lo droppi cioè ci sta lo fa sì ma non è una buona rappresentanza dei gestionali dovresti provarti un tropico mi garbavo a SimCity ma anche da ragazzino poi facevo un'isola con tutte le scuole mi ricordo e poi ci mandavo l'alien i tornati a distruggere tutte un po' è classico Two Point Campus lo sto giocando quello me l'ha prestato un mio amico glielo devo ridare e lo gioco adesso appena posso inserisco il CD nel 97 te l'ha prestato nel vano di Disney no ora c'ho Coromon voglio provare Coromon e poi vedrò ti piacerà Coromon secondo me e poi cazzo io aspetto Grounded a settembre io l'ho giocato con dei miei amici esce tutto esce completamente voi invece anche per lavoro state gioando a parte ce l'avete detto The Last of Us Remake a posto quello si io in realtà sto giocando un sacco di roba perché ho fatto Two Point Campus The Last of Us Destiny ci sono rimesso oggi Cult of the Lamb Roller Drum però cos'è Roller ma è quella roba tipo Alita sì tipo il Motorball quello sembrava figo è carino è carino è molto single player molto high score devi prenderti bene se lo fa funziona bene è di un team che si chiamano Roll7 sono quelli che hanno fatto Note Hero e Holy Holy World e anche Laser League che era molto carino tutti i giochi con tanto gameplay ma sfigatissimi ci sono andati malissimi e questo è l'ennesimo della linea con gli oli era carino zero devi fare solo quella roba o c'è qualcosa in più che ti tiene no devi fare è un mix tra Tony Hawk come idea e Max Payne che figata devi skateare facendo delle acrobazie della madonna che ti servono anche a ricaricare i colpi e nel frattempo uccidere gente switchando anche le armi col bullet time beh boi un po' Jet Set Radio anche mi sembra sì allora Jet Set Radio è molto più acido nei colori molto più urban questo non è bellissimo questo stilisticamente è un po' fumetto di Möbius ma ma però hai detto niente però non c'ha quel quel tiro lì cioè si vede che è un po' la copia cioè il surrogato senza la spinta di Möbius però esatto ma poi più che altro gli manca gli manca il tiro secondo me anche nello stile nel senso che vorrebbe essere questa roba retro futuristica ispirato a Rollerball anni 70 eh sì eccetera invece è proprio un po' una copia ma senza la rielaborazione senza un mondo suo ecco quindi finisce per essere un po' così ma non vanno rotto il cazzo sti cazzo negli anni 80 a me mi hanno rotto veramente i coglioni negli anni 80 qua è 70 però c'era Jack Nichols no negli anni 70 vanno bene negli anni 80 no stava per finire il mondo si stavano per sparare missi nucleari stava per finire l'umanità avete rotto il cazzo Stranger Things Dio Cristo riscopriamo i 90 no ancora peggio ancora peggio ancora peggio ancora peggio c'era peggio c'era peggio c'era peggio erano gli anni 80 fatti male poi a Kirio vabbè gioca poco poi gioca qualcosa però a Kirio no no io sto giocando Fallout poi un pochino WWE 2K22 ho iniziato lì il gestionale anche lì c'è il gestionale devi fare il general manager il manager Giava è bellino dai carino poi gioca in live Victorone e poi ho iniziato ho iniziato anche The Quarry però sinceramente ah boh lentino cioè cazzo non arriva mai la teore oh quando inizia eh ho capito ancora boh non mi prendo mi è un po' deluso mi è un po' deluso sì Raiden e te invece immagino attivazioni a go go quindi un attimino cos'è che stai giocando in questo allora io come fossa per lavoro e devo dire contro voglia sto giocando The Last of Us remake perché non per il gioco in sé perché non avevo voglia di rigiocare il primo The Last of Us però lo sto giocando perché se ne parlerà insomma e tu poi in campus anch'io eh ne abbiamo fatto una live però dopo l'ho continuato per i fatti miei e ho fatto il 100% anche il live di Lost Judgment 100% che però vuol dire non ancora platinato ma ho fatto tutte le secondarie tutto quello che c'era da fare mi mancano le missioni di Taungo che sono una cosa fuori di test tipo mangia in tutti i ristoranti e prendi la pietanza 18 volte e poi torna dal gatto fagli le cocco il test è stronzata e qualche però sono belle ma molto time spending quindi quello probabilmente non lo farò vabbè in realtà beh basta queste tre cose principalmente poi gioco sempre a qualcosa insomma o per no non l'ho droppato io ragazzi l'ho droppato in live ma non è che tutto passa dalle live cioè fuori dalle live faccio anche altro fuori di live vivi vivi lo sto giocando in Akusa 7 lo sto giocando parecchio ma noi in Giappone ce l'avremo una completionist list io ti dico solo questo che Suri mi ha passato dei contatti per delle cose e mi fermo qua vabbè dicevate no io stavo dicendo che io invece ho sto recuperando un gioco che non avevo ancora recuperato e che è un esaurimento nervoso per me non ho mai provato così tanta rabbia e frustrazione che è blasphemous oh bellissimo mi sta ammazzando dentro che bello grazie non l'avevo mai giocato visto che è compreso nel playstation plus premium e boh cioè è un esaurimento ogni volta che ci gioco deve essere meglio di casa ma no ma ma sì ma faccio come Majin Bu che mi vesce il vapore e mi si forma un altro vicino più magro vicino è una roba veramente mi esaurisce è bellissimo ha uno stile fantastico la storia è bella però dio mio posso dirmi anch'io cosa sto giocando beh certo ma una video che sto giocando dell'MMORPG di Pretty no hai detto Conquer l'hai detto basta no a parte gli MMO che a voi non piacciono che sto giocando eh Iscription l'ho iniziato due settimane fa che bomba mi sono presa veramente bene stupendo lo sto amando lo spoiler è che io devo ancora giocare no 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 sono al mondo di Po quindi non so neanche se sono inizio metà non ho idea sono al mondo di Po bellissimo lo sto veramente amando tanto cioè è una scoperta non non credevo che ci fosse ancora così tanta fantasia per fare giochi simili mamma mia che bello Iscription a parte una roba mi ha fatto incazzare è troppo bello troppo bello non so se avete saputo no io forse non cioè io non so dove cioè magari sono indietro non so dove sono nessuno spoiler la mia community per quando ho finito le stream della Casey's Mod che è l'espansione Hardcore Iscription con un pizzico di narrativa ha fatto sì di contattare l'attore del Card Gamer e mi ha fatto fare un video personalizzato da lui ah bello è stato stupendo bellissimo cazzo un onore e io ho l'augurio di matrimonio di Maya Moldenauer e Chad Moldenauer però bellissimo wow flexino che mi ha procurato moltura grazie a quest'uomo qua che mi ha procurato molto sì sì è stato anche dichiarato pubblicamente quindi si può andare a recuperare le informazioni grazie sono dei geni loro flex inutile subito l'entusiasmo del favore Michele è spento da questa cosa inutile totalmente inutile cioè vabbè comunque no è molto bello anche perché mi piacciono parecchio quelle parti lì e intervallano bene ed è ed è quello che secondo me ha creato tanto movimento in tona inscription cioè ti giochi un gioco e poi ehi aspetta quello che hai visto devi un attimo cambiare prospettiva ma poi scoprire tutti i segreti tutte le cose io sto scoprendo da sola è bellissimo sì anche questo devo dire che ogni tanto gioca quella variabilità incomprensibile di internet perché in realtà lui l'ha fatto anche con i prodotti precedenti sì io non l'ho giocato però mi hanno raccontato di tutto ma li consigli quindi questa era di devolve allora io the x lo devo ancora giocare pony island che si fa in due ore e mezzo forse ma aspetta pony island io l'avevo ah era sempre lui Daniel Mullins certo è vecchissimo mi pare io l'avevo giocato pony island pony island comincia in un modo particolarissimo di pony island cambia tutto e poi va l'avevo giocato dopo undertale perché ero in quel momento in cui cercavo tutti i giochi un po' particolari però io non l'ho apprezzato il cambiamento di inscription non dire niente perché c'è gente che ancora lo deve giocare io l'ho amato io sto amando vabbè non parliamo oltre perché effettivamente però a me non a me sinceramente sì anche perché da lì in poi scopri che quel gioco che stavi giocando non è quello cioè il gioco è tutto quello che stai giocando quindi non è proprio un cambio è la rivelazione cioè io l'ho vista come una rivelazione uguale ma come undertale cioè ma ci sono quei giochi o come tunic cioè ci sono quei giochi che fai ah porca troia davvero ok allora mi hai preso per il culo cioè sfondi la quarta parete dai ma nemmeno cioè un gioco di matriosche in cui tu credi di essere è più l'attacco dei giganti cioè credi di essere in un posto e c'è cazzo invece un altro posto l'attacco dei giganti esatto sì 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 io quei giochi lì li apprezzo particolarmente e sono ancora più sorpreso cioè sorpreso più contento di vedere negli indie questa volontà di allarcare la mentalità di sorprendere lo spettatore da quel punto di vista lì cioè forza vediamo cosa può succedere vediamo come ti rompo la testa stavolta doki doki literature club cioè ce ne sono tanti di giochi capito che riescono a darti quel senso di meraviglia da dire wow quindi non ho fatto più cazzo fino adesso bravi tutti sì sì ma in generale negli indie cioè anche se non c'è la volontà di stupire in questa maniera c'è un senso della ricerca differente un senso della voglia di osare cioè anche i giochi che abbiamo citato Rollerdrome che è un incrocio fra Tony Hawk e Max Payne Cult of the Lamb che mescola gestionale action cioè c'è quel coraggio quella voglia di nuovo di originalità che l'industria AAA ha perso da anni anche solo artisticamente ma se poi abbiamo visto che cambiano uno stile di Monkey Island e gli mandano i cazzi a casa è chiaro è anche vero che sono molto vincolati non neanche Monkey Island i cazzi sono arrivati per God of War in realtà i cazzi per God of War vero sì secondo voi perché c'è questa tendenza cioè perché gli indie stanno vincendo rispetto ai giochi AAA perché i AAA costano tantissimo esatto costano tantissimo non possono sbagliare però l'ironia della sorte è che andando sempre così sul sicuro perdono identità competono tutti per uno spazio che è gigantesco ma in realtà è piccolissimo perché poi di gigante ne può contenere solo uno o due e alla fine finisce che sembrano tutti uno uguale all'altro e allora tanto vale che magari mi tengo quello che già ho e veramente e poi flopano e quindi si fanno malissimo perché cadono dei titani è veramente una cosa assurda forse puntano tutti a innovare dal lato tecnico e non riescono a innovare dal lato stilistico magari della trama appunto di appunto come inscription di fare anche delle matriosche di cose un po' particolari cioè puntano sempre alla adesso vi faccio vedere le animazioni che spaccano il culo oppure è sempre una roba così però in realtà siamo nella condizione in cui se tu da sviluppatore azienda di giochi AAA dovessi modificare così tanto un gioco ti prenderesti cazzi per quest'altro motivo il punto è che c'è proprio un'industria che ora come ora è malata alla base alla radice che ha un pubblico che vuole quello che vuole cioè nel senso è come se dovesse decidere il pubblico quindi le aziende si sentono vincolate non vogliono cambiare più di tanto se cambiano perché cambiano se non cambiano perché non cambiano si prendono pietre da tutti i lati il fatto è che proprio il mercato il videogioco ora come ora è visto con un'aura di sospetto di non lo so di malevolenza nei confronti del pubblico estrema dovuta non tanto ai giochi che sono usciti che sono brutti perché sono belli i giochi cioè piacciono alla fine e vendono ma perché spesso la gente trova negli indie un rifugio verso quello che può essere qualcosa di diverso ma se questa diversità ci fosse nell'ambito dei tripla si incazzerebbero perché direbbero no ma io volevo sempre quella stessa cosa però fatta in quest'altro modo ma sempre quello tant'è vero che Sony ha adottato lo stile dei sostanzialmente action in terza persona dividendoli per brand perché poi alla fine sono tutte action in terza persona The Last of Us God of War Horizon Forbidden West che però hanno una matrice diversa ma pur sempre la stessa Genesi ma infatti voglio la chiedere a Sony se ha venduto Horizon Forbidden West eh ho capito l'ha messo la settimana prima di Elden Ring eh però se è un gioco buono è il primo è il primo insieme a Zelda Breath of the Wild però il primo intanto il primo intanto ha venduto bene cioè secondo le aspettative ah ok e c'era Zelda Breath of the Wild secondo ma infatti il problema tra le aspettative le aspettative sia del pubblico che dei publisher perché è una roba che stava dicendo prima Gianluca vendono ma il paradosso è che magari vendono diversi milioni di copie e non basta cioè perché il dramma è quello che sono talmente giganti e sono costati talmente tanto che per avere un ritorno devono fare dei risultati che poi sono completamente inverosimili perché essere un successo comunque non gli basta ed è assurdo scusa volevo solo rispondere a Manz che dice ci sono Manz ci sono ancora persone che non hanno la console ma quali persone che non hanno la console che è per PS4 che ha venduto 130 milioni no forse dicevano il 2 ma la forse è vero c'è anche per PS4 esatto raga state aprendo il vaso di Pandora io ho trovato da dire settimana scorsa un casino su tiktok con un botto di gente perché sostenevano che giocano ai giochi mobile perché costa troppo la console ma su tiktok i commenti non esistono finti sì ma no non sono finti ma tu ti rendi conto e io mi sono andata lì a fargli conti a dire allora è uno è uno che scrive tutti i commenti il signor tiktok allora un xbox la paghi così che era tipo 360 euro sono andata a guardare il pass lo trovi a un euro e ti giochi un botto di roba con 360 euro quanto non paghi un telefono per giocare ai giochi mobile cioè giuro a me la qualità dei giochi mobile non c'è di base no però mi ha girato proprio il cazzo perché la gente continuava a dirmi eh vabbè non è che tutti abbiamo i soldi come voi per giocare ai giochi oh ma raga ma io gioco da quando ero piccola i miei genitori non avevano soldi vabbè ma tu devi rispondere mi dispiace ma raga ma c'è questione di priorità ok poveri adesso c'è a me io non posso sentire che un videogiocatore non può essere un videogiocatore perché è povero perché sono cazzate non è vero cioè non è che tutti veniamo da famiglie ricche e magari molti di noi avevano delle priorità magari che ne so invece che farti regalare il motorino ti prendevi il gameboy la playstation cioè ma non gli da retta o metti il tocco non hanno valenza io ci provo a ragionare ma il punto è che il telefono ce l'hanno già tutti e quindi visto che ci sono si scaricano i giochi e lo posso capire certamente però non mi dire che un telefono per giocare costa poco perché non è vero il punto è un altro è che non gli danno cioè per loro il valore non ha importanza esatto non gli danno valore e allora di che non ha importanza secondo me il punto è che per una certa fascia di pubblico non così ristretta non si accorgono della differenza qualitativa tra l'esperienza che c'è su un gioco mobile e l'esperienza che c'è su un gioco per console io sono affranta per sta cosa perché non riesci proprio a cioè ci ho provato mi sono messa lì glielo ho spiegato gli ho fatto proprio i conti di quanto costava ma cosa cazzo gli spieghi Sara non riesco ti giuro mi dispiace perché poi vedi che principalmente sono anche nuove generazioni ma non per forza però che continuano a giocare col mobile e dicono eh ma perché costa meno ma non è vero perché poi hanno mille microtransazioni quindi cos'è che costa meno che poi ci spendi magari due costa tanto il telefono sì ci puoi telefonare da su whatsapp e mandare c'è una soluzione per ovviare questo problema cioè premi e tieni premuto lungo l'icona di tiktok e poi clicchi sul cestino ecco no ma lei ci fa ci lavora anche ci fa i reel per l'azienda ma come fai sì però comunque cioè a me a me dispiace vedere proprio un'intera community di videogiocatori perché comunque sono videogiocatori che si limitano a giocare magari i prodotti mobile non pensando che ci sia effettivamente una differenza in quello che trovano su console o su pc o per assurdo anche in una console portatile cioè non però sai una roba Sara io sono d'accordissimo ma è anche da un lato lo specchio del fatto di cos'è il videogioco nel 2022 che può avere delle sfaccettature molto diverse è chiaro che ti perdi qualcosa perché dicono che vogliono la roba fast dicono io ho poco tempo gioco veloce sono videogiocatori di una tipologia diversissima magari da quella che può essere la nostra prendendoci tutti insieme in un unico appunto gruppo però cioè comunque esistono sono tra l'altro un mercato anche rilevante poi come dici te magari lo spendono nella cosa ma spendono i soldi per la microtransazione la microtransazione esatto la cosa assurda che hai anche detto tu secondo me è inadvertitamente che dici spendi un euro per il game pass secondo me quello a lungo andare sarà un altro problema però adesso adesso si dice che questo è un euro quando in realtà ovviamente non costa cioè costa un euro volendo però dietro c'è una macchina per sostenere quell'euro di costo che non so per quanto potrà durare però voglio dire adesso diciamo che questi sono videogiocatori però quando quando facevano le indagini le analisi di mercato e dicevano che tante donne sono videogiocatrici però ci includevano anche le mamme che giocavano a Candy Crush quelle non erano videogiocatrici per me lo sono secondo me tanti di quelli che scrivono vabbè ma io non prendo una console in realtà sì sono videogiocatori quelli che definivamo casual cioè nel senso che giocano a qualcosa ogni tanto e via ma perché raga la gente che andava a giocare cioè in sala giochi non è che tutti i giochi fossero super cioè megatrama capito? vabbè ma c'era c'era una cosa per quello sì però nel senso giocavi anche a Tetris facevi anche il giochino magari un attimo così per passare il tempo come Candy Crush sui telefoni e non eri un videogiocatore per me sì quella era la fruibilità non era disponibile a casa quello che giocava in sala giochi parliamo di anni fa guarda Sara c'era una roba che diceva Chirio forse se la ricorderà diceva sempre Caverna di Platone che quelli che leggono solo Dragon Ball non sono lettori cioè no non so Michele no non sono appassionati secondo me è una persona che ha letto un fumetto te ne leggi uno come quelli che ora lo guardano all'attacco dei giganti basta no non è che lo diceva perché è morto non lo dice più questo è gatekeeping però raga no aspetta non l'ho finito no non è gatekeeping è che se te leggi tre o quattro manga hai letto tre o quattro fumetti mi ci metto io certo certo se te invece non ti definisci un appassionato di manga non sei un lettore un lettore per me è quello che segue gli autori legge anteprima compra le nuove testate magari si informa sulla storia si informa sulla recensione ci sono diversi livelli certo esatto è un lettore appassionato quello che dici tu esatto per me il videogiocatore che sia amatore come nel mio caso o esperto come nel caso di Michele che conosce tutti o ha nel caso di Fosse e Mottura di Raiden che vanno lì a fare i collegamenti con le aziende i licenziamenti i promotori i cazzi in culo eccetera io invece sono un amatore sono quello che si informa sulle persone che ama di più sugli autori che ama di più sugli studi che ama di più e poi finisce lì e io come te esatto però siamo videogiocatori perché giochiamo tanti titoli l'anno ci interessano bene o male tutti i generi siamo videogiocatori appassionati chi gioca Candy Crush non è mio è un giocatore è uno che ha giocato Candy Crush è un videogiocatore super candy teoricamente è un giocatore perché sta giocando un gioco teoricamente è un giocatore come è un lettore una che legge sono un corridore beh ma scusa Mario chi gioca solo a FIFA cioè cambia il media chi gioca solo a FIFA tu non lo consideri un videogiocatore? no è un videogiocatore casual aspetta va bene ma no secondo me è anche l'approccio secondo me è anche l'approccio perché c'è anche magari qualcuno che gioca solo a FIFA però si informa tutte le settimane del team of the week e del giocatore poderoso con il cazzo lungo 30 centimetri un videogiocatore di FIFA ok ma c'è anche c'è anche tanta gente ma c'è anche tanta gente che invece prende Candy Crush e lo usa con un'altra finalità che non è quella di appassionarsi nemmeno a Candy Crush quello voglio dire cioè non gliene frega un cazzo di Candy Crush e magari ha scaricato Candy Crush perché tutti ne parlano ma poteva essere la visione passiva della televisione sudoku ma la stessa Electronic Arts ha detto una cosa giusta una una cosa giusta che ha detto Electronic Arts adesso ormai ormai dire sono un videogiocatore è una cosa relativa cioè quanto quanto ne sai di quella materia e su questo do ragionissimo a Dario cioè io effettivamente ho letto tutto Dragon Ball ho letto Captain Tsubasa Kenshiro e basta ho guardato Attack on Time non c'è niente di male non c'è niente di male però non mi direi mai non mi direi mai un appassionato di manga non c'è un lettore perché hai letto qualche cosa con le letture che ritenevi importante e finisce lì cioè ma non è che no ma c'è anche il lettore che legge 10.000 serie e non gli interessa una sega dell'autore sì ma raga ma secondo me è molto diverso perché il manga lo legge una volta e poi lo metti da parte magari ne parli ti appassiona ma lo metti da parte il videogiocatore che ho fatto l'esempio di FIFA ma può essere anche di NBA di quel cazzo che volete di Genshin Impact c'è uno che gioca solo esclusivamente a Genshin Impact Minecraft per me è un videogiocatore gioca solo a quello è un casual ma non c'è niente di male io non lo dico con accezione negativa ma nemmeno io però per me non è un giocatore cioè non è è una persona che si è fissato con qualcosa no perché se no se vado a fare tre tiri a pallone in piazzetta con le servetti divento un carciatore ma no ma che c'entra è come nel mio campo come il cinema scusa sei un videogiocatore sei un giocatore di Genshin Impact ma non sei un videogiocatore cioè io amplio la definizione per me il videogiocatore è una persona che gioca tanti titoli che si appassiona proprio al media ma quello è il videogiocatore appassionato il videogiocatore casual ci sta che magari ha uno o due giochi fa quelli gli piacciono quelli ma rimane sempre una buona ma pensa anche Dario al successo di certe saghe i titoli quelli grossi attenzione la mascella più squadrata del web buonasera scusate non vi sento è colpa mia non sto capendo cosa sta succedendo non vi sento quindi non sento nulla comunque Sara è come quando venne venduto il Wii a tutti cioè alle vecchie poi non è che quelli lì sono sono rimasti i videogiocatori la nonna è morta oppure le mamme hanno smesso di giocare però magari se ci giocavano tutti i giorni per un certo periodo sono stati riveduti Sara ma che mimà era videogiocatrice del Wii Fit di Abono è perché mi fa così dire che è una videogiocatrice per un certo periodo ci sta ci sta ci sta che beccanti andavo videogiocatrice di Wii Fit facevo delle mosse chiamavano oh senti andavo a tante fanni e poi mi mettevo sulla balance board e poi rompavo pure allora chi gioca in VR non è un videogiocatore allora chi gioca in VR non è un videogiocatore se giochi tanti giochi in VR tutto il giorno magari anche giocare uno perché te ne piace no vabbè mai un discorso che non ha fine è in cul de sac proprio sono opinioni ovviamente parlando di cinema io sono seguito anche da tanti casual cioè io conosco persone che si guardano 50.000 film ma non sanno una sega di regia non sanno una sega buona ma non è neanche necessario che uno sape di regia è uno spettatore casuale non sei un cinefilo no io sono una spettatrice casuale appunto però mi è diverto ma cinefilo è una roba di testa è appassionato ma non deve essere esperto di regia te posso andare 40 film al giorno però sei una persona che guarda tanti film ma proprio in maniera così come trattenimento e basta capito sì però cinefilo già per la parola stai dicendo una persona appassionata di cinema che già è già come dire il videogiocatore appassionato guardarti 100 film in una settimana non fa di te un appassionato no una persona che mangia film a manetta un visualizzatore di film però non ti capito non è Michele come la pensi secondo me è sempre un appassionato uno che guarda Michele come la pensi che sei un po' zitto mi preoccupo questa cosa è perché in realtà è l'argomento infinito che soluzioni non ha grazie a Belliano nel senso che ci sto riflettendo da morire in quanto sono sempre stato a sentire questi argomenti perché nel web la gente si ammazza a parlare di queste cose cioè sembra quasi che la loro stessa vita dipenda dal dire che vedi già quanto ci siamo scaldati il videogiocatore cioè è quella cosa che vi rappresenta come unica loro possibile forma di autodefinizione del mondo adesso è essere critici si si non parliamo per favore non farmi questo non voglio non voglio distruggere però il fatto è questo nessuno ha torto nel senso in quanto giocare un solo videogioco come passatempo in realtà a livello cristiano è vero è vero faccio il cerchio bottista perché in realtà se tu giochi un solo videogioco tecnicamente forse non ti rendi neanche conto di cosa un videogioco sia o che tu stia effettivamente utilizzandone uno cioè semplicemente passi il tempo a fare un movimento monotono che è fatto per cercare di assorbirti quanto più denaro possibile non tempo denaro perché tendenzialmente è il tipo di prodotto che ti conduce ad avere semplicemente quel pattern viceversa se giochi in maniera appassionata la termina passione è stata usata in maniera diversa in modo continuativo al medium non importa quanto ne capisci sei un videogiocatore così come se ti guardi in loop solo e unicamente Lost non so se puoi dire che ti guardi le serie tv ti guardi Lost quindi ha ragione anche Dario ciò non di meno se vogliamo fare le etichette e le definizioni comunque se giochi Candy Crush stai videogiocando però non vuol dire che tu sia necessariamente il videogiocatore cioè tu non puoi andare a un gruppo di ragazzi e dire io sono un videogiocatore che fai? no quello no diciamo che non ti autodefinisce però tu stai videogiocando ma in due parole onesta intellettuale perché se poi lo stesso videogiocatore sa di essere un videogiocatore a livello di persona che gioca soltanto due cose e mette bocca su tutti tantissimi altri aspetti del medium li caga fuori dal vaso non lo fa quella tipologia di utente lì non lo fa perché come no? non si definisce neanche come quello che gioca sulla Candy Crush vabbè questi che non lo so però ci sono tanti che eh vabbè ma Kojima che cazzo ha mai fatto eh ma questo che cosa avrà fatto mai perché questo lo aspettate tanto che non ha mai fatto niente e non sanno quello non è uno che gioca un gioco o due quello è uno che ne gioca un tot e si dà un tono e pensa di capirne è proprio diverso secondo me le etichette alla fine stanno a zero l'importante è che ognuno parli di quello che sa e basta secondo me vabbè quello si però secondo me la questione giocatore o non giocatore è risolvibile con con un modello tipo Sapiens o Sapiens Sapiens cioè si definisce certo si uno si definisce giocatore cioè quello di FIFA gioca solo a FIFA ma ha cognizione del mercato e si definisce giocatore Mima che gioca Candy Crush formalmente gioca ma mai si definisce giocatore esatto e secondo me potrebbe essere cioè non ha cognizione di niente non ha cognizione del mercato lei stessa non direbbe mai di essere una videogiocatrice secondo me è una divisione che potrebbe essere adeguata insomma a rappresentare la situazione io ormai sono entrato nell'ottica che per me tutti si possono definire un po' come vogliono basta che non caglino il cazzo poi penso che riassuma un pochino tutte le posizioni ma in realtà tutta questa discussione è un buon segno perché fino a qualche anno fa c'erano molte più etichette addirittura le ragazze che giocavano si definivano girl gamer che era una strontata camorosa c'erano i casual c'erano gli hardcore e anche i siti internet fossetti in questo mi può dare ragione avevano la sezione casual game avevano la sezione giochi casual che uno già sentiva ghettizzato quindi tutto sommato il fatto che oggi nel 2022 non stiamo riuscendo bene a identificare che cosa sia un videogiocatore è un buonissimo segno hai voglia ma è tutta la vita che mi danno della poser vaffanculo vabbè ma quello non avevo da quando avevo sette anni che mi danno della poser ma poi i poser che gioca a chiusa gli MMO tipo tanto nella ma hai capito infatti i famosi poser degli MMO ma ora per fortuna cioè in realtà i nerd hanno vinto i geek hanno vinto ma di brutto i manga sono in cima alle classifiche dappertutto i videogiochi stanno sostituendo secondo me poi vedremo come va il cinema per quanto riguarda il commercio e non so ancora il cinema ha tanto da dire il problema è che se andiamo avanti così la gente preferirà giocare che andare in sala non lo so questa è la mia spusazione non ne sei felice però di sta cosa che appunto cioè come il fenomeno Stranger Things no se no quando pensi no però aspetta aspetta te l'ho preso per farti un esempio ho capito che non ti piace però il fenomeno Stranger Things per la storia di D&D per la storia di D&D che ho visto tanta gente incazzarsi ma per assurdo anche in Tales quanta gente abbiamo fatto incazzare con i Tales perché oh mio Dio degli amatori gente nuova che ha appena iniziato a giocare a D&D che osa parlare di D&D cioè questo è un problema anche del gaming alla fine ma sarà ho capito però quel mondo lì ma c'è anche nel gaming certo ma è chiusissimo cioè là sono dei vecchi scorreggioni tra di loro che appena arriva tanto così novità rompono il cazzo e lasciami lì però sì ma non è così bello che quello che ci piace diventi anche di moda piuttosto che la gente ti dica ah se non spiegare l'ideale c'è un fan dei metalli che è contento che conosca l'ideale esatto bravo io ero felicissima di sentire Master of Puppets conosciuto dai ragazzini c'è gente invece che mi ha detto ma non ti scazza che Master of Puppets adesso sia cantato dai ragazzini ho detto raga è bellissimo ma perché dovrei io bellissimo no ma non sto dicendo quello Sara è un'altra cosa semplicemente dispiace che anche questo mondo che noi abbiamo sempre almeno il mondo dei manga o dell'animazione nel mio caso che ho sempre approfondito studiato divulgato eccetera venga preso come l'ennesimo prodotto di consumo usa e getta per quello io Stranger Things non è una brutta serie però allo stesso tempo è un giocattolone c'è una roba che tieni te lo diamo ci giochi un pochino e poi lo butti via e passo al prossimo prodotto Stranger Things era per farti capire l'esempio di D&D no 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 per dire però Stranger Things mi dai là per fare questa discussione e fare questa tu hai paura che venga strizzato il tutto e poi gettato via a difendere dal tipo di pubblico noi rimaniamo appassionati di manga anche se dovesse passare questo boom che c'è ora il vero appassionato rimane e quello che c'era solo per moda andrà via ho paura perché non voglio che diventi l'ennesimo trucco del capitalismo per vendere tutto in maniera così insensata e sfruttare la moda e andando un'altra volta a soppiantare la passione vera perché tutto questo è quello che mi spaventa quello Dario purtroppo mettiti l'anima in pace perché è il destino di qualsiasi cosa quando diventa tanto 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 grande purtroppo c'è poco da fare sto piangendo già dentro a pensare che un giorno a qualcuno verrà la malsana idea di fare un live action su Zelda cioè il discorso dei live action per me è che anche se fanno cacare completamente non toccano il prodotto originale quindi chi se ne cioè come cowboy bebop chi se ne frega rimane l'anime meravigliosa se non ti piace non lo guardi quello che può fare è portare qualche fan al film originale secondo me no non esiste questa cosa ma si ma chi cazzo se hai visto la serie e hai detto vado a vedere l'anime originale secondo me è ne porra ma perché magari tutti dicono guarda sta merda che tutti ne parlano male tutti dicono la serie originale è un capolavoro andiamo a vedere se è vero è vero un po' di rispetto per l'opera saremmo tutti più contenti vedi Death Note la live action di Death Note è una merda vabbè Kirio sta cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno no è chiaro oddio guarda Devil May Cry Baby che è bellissimo per esempio e magari tanta gente ha letto anche il manga originale poi dopo aver visto Cry Baby cioè io spero che no vabbè ho capito ma Cry Baby è bello cazzo lo so ho capito ma se tu fai il ragionamento di non fare prodotti derivativi o live action o altre cose no ma che siano fatti più bene però non lo so il problema lì secondo me non è non è il fatto che il prodotto sia derivativo è il fatto che di tanto in tanto danno l'ok anche a dei prodotti che anche sulla carta secondo me sono una merda perché sono evidentemente una merda perché sfido chiunque a aver detto di fronte alla sceneggiatura del live action di Cowboy Hip Hop mmm che bella che bella serie gourmet però visto che magari poteva essere un'opportunità commerciale gli hanno detto ma sì vai facciamola chiunque altro sono soldi buttati per progetti magari indipendenti fighi o progetti anche originali fighi invece di andare a sporcare una serie leggendaria poi scusate questa è una roba che devo dire non me ne frega il cazzo farò il boomer farò quello chiuso di mente ma esiste Cowboy Bebop non c'era assolutamente bisogno di una serie live action per vendere ai cretini che se vedono qualcosa l'animazione no non lo posso vedere io se non ci sono l'attore non lo guardo mi dispiace c'è un coglione te vai a fare in culo e basta è una cosa che si fa da sempre la serie esiste esiste perché devo fare in che senso si fa da sempre Vittor ragazzi i remake che spesso non sono necessari si fanno da sempre guardate scusate i remake dell'evaction Disney ma che cazzo di senso hanno capito ma da sempre ma che scappesse è arrivato da quel momento sì ci sono remake cinque anni fa ci sono remake sensati e remake vengono sensati stanno cercando a posteriori si può dire io non ti sto parlando dei remake perché anche la cosa di John Carpenter ma quello è non è quello no è la filosofia di Venn è cazzo è animation washing cazzo c'è una roba del genere infatti è questo una delle realtà per me più incomprensibili dell'intera struttura di produzione multimediale in cui io ho lavorato quindi dovrei avere dell'insight che non posso darvi perché non esiste è non serve denaro per saper scrivere una sceneggiatura o per saper fare un adattamento quindi com'è possibile che queste produzioni abbiano così poca cura e impegno nel fare un lavoro che non dico sia buono ma almeno sufficiente cioè come fanno costantemente ininterrottamente non per il fragore capriccioso dei fan bensì a livello proprio di critica cinematografica televisiva essere insistentemente incapaci di fare qualcosa che non sia spazzatura che flop ma era terribile e per poi dare la colpa al fan perché pensano che basti l'idea originale ma l'idea originale devi saperla adattare guardate è l'esempio di Kyle Davis la idea originale l'ha adattata benissimo qui siamo su un altro livello perché Game of Thrones è un libro che cerchi di rendere come la ruota del tempo la tua immaginazione quando leggi il libro in pellicola ok qua si sta parlando di una cosa ben più grave perché Ghost in the Shell esiste il film di Ghost in the Shell solo che è stato invece che con l'attori Osce perché ha fatto anche dei film live action Osce ed è un grande regista dei film live action non me ne frega un cazzo ha deciso di usare la tecnica dell'animazione che dio madonna non è un genere è un cinema per girare un film ok perfetto perché devi prendere Scarlett Johansson e poi il povero Kitano che come ho sempre detto probabilmente la scena che ha fatto non era una scena girata ma gli hanno messo una telecamera davanti casa e gli hanno mandato il Yakuza davanti a bussagli è lui lo Yakuza è lui inconsapevole che ha girato e si è ritrovato in un film e poi l'avranno pagato dopo perché fare un remake di un film che esiste ok che i remake sono sempre fatti ma qua non è che si fa un remake perché il film è vecchio dell'anni 40 dell'anni 50 riproponiamo negli anni 80 sei incazzato perché sminuiscono l'animazione ovviamente no io fanno il remake di un film che è perfetto ancora oggi anzi è avanti anni luce rispetto al cinema odierno Ghost in the Shell di Oshii che aveva anticipato tutto e sta continuando ad anticipare cose nel tempo che non aveva senso fare un remake soprattutto un po' di persone andranno comunque a vederselo quello di Oshii che non sarebbero comunque andate a vederselo non lo so io concordo con Kirio su sta roba perché secondo me provano a riportare in auge determinate cose cioè vedi Lock and Key vedi Ombrella Academy cioè io ad esempio i fumetti sia di Lock and Key di Ombrella Academy io me li sono presi dopo aver visto la serie è ovvio che se tu vedi la serie e magari ti incuriosisce dici oh però sai che forse me lo vado a recuperare perché sono fatte bene le serie io te lo prendi capito in base è questo nella conseguenza grazie Bonzo ma non è il tipo per cui vengono fatte quelle cose la verità la verità è che adesso la carenza di idee si sente Hollywood ha paura di perdere soldi allora si va sul prodotto sicuro e siccome ora c'è il boom degli anime e dei manga si inizia a ciucciare anche da quelli quando non hanno capito gli americani dimmi che l'età di chi oggi inizia in teoria a poter spendere cioè parlano che iniziano ad avere 30 anni e che iniziano ad avere un potere d'acquisto e sono persone per cui l'universo Marvel potenzialmente i videogiochi potenzialmente i manga portati al cinema sono cose che per loro a livello generazionale hanno una rilevanza e di conseguenza si dice questa nuova questa nuova audience che inizia ad avere i soldi non sono più i soldi dei genitori che li portavano al cinema a vedere i classici Disney sono adesso loro che portano al limite i figli o che portano loro stessi facciamo qualcosa che sia rilevante per loro nella carenza di idee generale il problema è che questa roba non basta perché il punto è se a me piace Uncharted mi sono divertito col videogioco non è che perché mi metti al cinema la scritta Uncharted io automaticamente vado è sbagliato questo soprattutto se me lo fai palesemente di merda e senza nessuna ispirazione l'idea può anche essere interessante ma se dietro non ci metti niente se non il richiamo generazionale è chiaro che si esaurisce tutto vedi la ruota del tempo io non so quanta gente si è andata a recuperarsi la saga della ruota del tempo dopo aver visto la prima serie se la sono recuperata grazie al nostro LARP in realtà davvero? no dai stai scherzando assolutamente non ti ci vedo a leggere la ruota del tempo no no sono andata a recuperarsi la serie dopo il nostro LARP dai non perculatemi però su sta cosa ma non è no ma non è che c'è anche un tatuaggio Sara c'è un tatuaggio dai che falle un chap di con Arkane stessa cosa l'hanno fatto l'hanno fatto senza pensare che dovesse essere un prodotto solo relativo agli appassionati di League of Legends però effettivamente siccome è fatto molto bene secondo me a qualcuno ha spinto a far avvicinare alla serie anche poi non è detto al gioco diciamo quantomeno al personaggio ai personaggi principali Jinx ed altri gli accessi in più ne hanno fatti ma infatti il punto è che non si può fare tutta l'herba un fascio anche Arkane nasce da un'esigenza commerciale è evidente quello che stavo dicendo io è che molto spesso l'esigenza commerciale invece giustifica tutto mentre dovrebbe essere l'esigenza creativa a guidare cioè uno mi porta io sono un produttore mi porto una roba come Arkane mi si rizza il cazzo la pubblico mi porto una roba come Cowboy Bebop non è che dico vabbè è una merda ma tanto qualcuno se lo va a vedere facciamolo lo stesso è quello secondo me è il problema è che la prospettiva del guadagno giustifica l'esistenza del prodotto mentre la qualità dovrebbe giustificare l'esistenza quando la qualità si sposa con la prospettiva del guadagno siamo tutti felici ma meno che gli dicano abbiamo speso troppi soldi ormai lo dobbiamo far uscire sì esatto secondo me sì grazie Roba grazie ai giochi anche se gli fa cagare quello può succedere nei videogiochi che magari tu lo produci per che cavolo ne so due anni tre anni ma basta parlare di Sky and Bones e poi lo devi pubblicare ma basta parlare di Sky and Bones ma su una sceneggiatura anche su una serie animata non uscirà mai te lo faranno vedere prima un po' qual è lo stile la direzione lo saprai se magari la sceneggiatura gli sembra buona e poi il prodotto è finito è una merda sì ma quante volte secondo me voi state mettendo lo dico in maniera spietata troppo la qualità al centro cioè non gliene frega il cazzo vedono che la gente va al cinema non gliene frega niente di come è sceneggiata la roba cioè vedono che interessa potenzialmente quella cosa lì e chi se ne frega se è scritta di merda interessa la roba col cane nello spazio è utopisico pensare che possa essere messa al centro la qualità questo è il discorso secondo me ma poi non ha inseguito la cosa eh lo so però è ma questo si vede in tutto praticamente in quasi tutto lo scibile umano da un certo punto di vista perché a un certo punto quando le cose diventano troppo grandi i burocrati il burocrate punto ex ok è quello che pensa alla sua fetta pensa al danaro pensa a far quadrare i conti eccetera 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 può capitare qualche volta che al vertice di una società che produce contenuti di qualsiasi tipo ci sia un burocrate con gusto quindi che magari non capisce assolutamente un cazzo di arte però a gusto vedi Kathleen Kennedy prima di impazzire invece ci sono tante altre volte dove arriva un burocrate che ovviamente decide esclusivamente in base a che cosa effettivamente va che è perfettamente il discorso che faceva Mottura e Fossa declinato in maniera diversa ma era fondamentalmente la stessa cosa può essere l'esempio di No Man's Sky eh sì nel senso che può essere l'esempio in No Man's Sky dove un burocrate tipo spinto fuori a forza da Sony anche se non era pronto non era pronto qualcuno qualcuno ha detto così no lì c'è stata tanta ingenuità proprio alla base chiaro che lì tanta sì lui ha anche sparato cazzate non solo cioè lui all'inizio cioè quando gli facevano le domande rispondeva e non sapeva cosa rispondere cioè diceva delle cose che sembrava un po' vago un po' vago per essere gentile vabbè potrete fare questo quest'altro mi incontrerete nei voi quando l'ha descritto sembrava Star Citizen prima di Star Citizen il problema è che Star Citizen sono quant'è 25 anni che in beta quindi nel senso è ancora un meme buon buon ragazzi io vi inizio a salutare e a ringraziare che abbiamo fatto che bello mi sono divertito allora ringrazio Sara Corolili ringrazio Michele Sabacu ringrazio Raunchu Fosse e Mottura grazie è stato bello tornare dopo un po' eh sì era tanto che non mi dico grazie a Raiden The Player Insight Dark Andros ovviamente tutti hanno un canale YouTube Twitch Instagram Cazzi e Mazza andate a cercare ovunque vi ringrazio ancora buonanotte a tutti e ho proceduto su Coromon ciao ragazzi ciao ciao buonanotte grazie a tutti